Virgi Mojito, signori, la menta va amalgamata, pressata e non pestata, ok? Cioè che gli oli essenziali della menta si amalgamano con il succo di lime, lo zucchero, in questo caso la mila, anche se la mila è spappolata, ma va bene così. Eccoci qua, bene? Ok, detto questo, andiamo a ramalare il ghiaccio. Allora, io qui ne vado a mettere proprio intero, non c'è nemmeno bisogno di pestarlo, di crush. Io personalmente sono uno di quelli che difende il buito fatto con ghiaccio, sì, ghiaccio intero e ghiaccio tritato, perché comunque così almeno abbiamo la possibilità di bere un buito un pochino più a lungo, se vogliamo conversare con i nostri amici e con la nostra bella ragazza, e avremo anche la possibilità di bere un buito senza che il ghiaccio si sciolga, perché se ce lo mettete tutto quanto, questa è la mia opinione, se ce lo mettete tutto quanto tritato, diventa un bel acquarello invece che acquazzone. Ecco qua, col mare, con la nostra, e finire, con la nostra Schweppes a lemon, non avevo la soda, mi sono dimenticato la Sprite, ma io preferisco questo. Decorazione, quindi, ma, è sempre la stessa, la menta di casa Guainella, guarda che bella, Franci, valla a vedere i nostri quando verranno su YouTube. Franci, faccela vedere. Vai Franci, vieni. Franci, faccela vedere. Quando spiego la telecamera ve lo faccio vedere, dai. Vai, e tocco sano, un saluto dal Botto, dal Bar 48, ecco lui qua, guarda, mettiamo anche lei, là. E il nostro quarto candidato è pronto, il bimbo io, signorio. Vai Ale. Grazie a tutti.